L'aula consigliale del Palazzo Civico di Via Roma è stata lo scenario della premiazione dei dipendenti comunali che hanno terminato la loro attività lavorativa per raggiunti limiti di età nel corso dell'anno 2012. Presenti alla cerimonia il sindaco di Cagliari Massimo Zedda e l'assessore al personale Luisa Sassu che hanno consegnato ai 52 ex lavoratori le medaglie ricordo. Tra gli applausi di amici e colleghi è stata evidente la commozione di chi ha dedicato tutta una vita al lavoro per il Comune di Cagliari. Alla cerimonia hanno preso parte anche numerosi dipendenti che poco prima avevano partecipato alla messa di Natale celebrata dall'arcivescovo di Cagliari Monsignor Arrigo Miglio alla sua prima esperienza liturgica nella sala consigliare dopo l'insediamento del febbraio 2012. L'arcivescovo prima e il sindaco di Cagliari poi hanno colto l'occasione per fare a tutti i presenti e rispettive famiglie gli auguri per un sereno Natale.